In che modo la scuola risparmia energia? Della durata di accensione del riscaldamento che tiene conto delle attività effettivamente svolte all'interno della scuola e quindi l'orario varia a seconda del periodo e a seconda delle attività che vengono svolte effettivamente il pomeriggio. Noi per fare un esempio abbiamo sempre la scuola aperta perché c'è il corso serale ma il pomeriggio il riscaldamento viene tenuto acceso solo nella zona in cui ci sono le attività didattiche del pomeriggio perché abbiamo un impianto di riscaldamento che è diviso per sezioni e quindi possiamo tenere accese solo le sezioni interessate. Poi in più c'è un sistema per cui c'è una società che ha in gestione il riscaldamento e questo tipo di organizzazione è stato deciso dalla provincia e questa società ha l'impegno di mettere in atto anche degli interventi per il risparmio energetico, parliamo di riscaldamento, al fine di risparmiare e proprio per questo piano hanno sostituito una parte degli infissi e un'altra parte in corso di sostituzione e in più hanno messo anche dei sensori nei vari piani per poter monitorare in maniera puntuale la temperatura che c'è nei vari piani e nelle varie zone dell'edificio. Che tipo di investimenti europei ci sono per il risparmio energetico? Allora, il tema del consumo energetico sia per quello che riguarda la corrente elettrica che per quello che riguarda il riscaldamento viene affrontato dalla provincia che è l'ente che nella nostra organizzazione ha la responsabilità per quello che riguarda la struttura e quindi ad esempio provvede anche al pagamento delle bollette sia dell'energia elettrica che del riscaldamento. Quindi si tratta di interventi che non vengono gestiti dalla scuola ma vengono gestiti appunto dalla provincia. Ci sono dei finanziamenti europei ad esempio per la produzione di energia alternativa e quindi nella nostra scuola hanno localizzato una serie di pannelli fotovoltaici per la produzione appunto di energia elettrica con questo sistema. Però si è trattato di un'operazione che è stata gestita dalla provincia e anche i proventi che derivano dalla produzione di energia elettrica attraverso questi pannelli non vanno a vantaggio di questa scuola ma vanno a vantaggio delle entrate della provincia che poi le gestisce tenendo conto delle esigenze sul territorio. Ecco quindi non è un intervento. Tutti questi interventi non sono gestiti dalla scuola e non è appunto in questo caso non c'è un vantaggio diretto per la scuola. L'anno scorso sono stati emanati dei bandi per il rinnovo e per la sistemazione di alcune strutture edilizie scolastiche. Bandi emanati dal MIUR anche sulla base di finanziamenti europei ma anche in questo caso è sempre stata la provincia a presentare dei progetti e quindi a partecipare alle selezioni insomma. Ecco questo istituto ha presentato negli anni scorsi un piano per la sostituzione di tutti gli infissi che è stato finanziato e che quindi ha portato a un cambiamento degli infissi di alcune zone e altri lavori che sono in programma. Ci sono dei rallentamenti però per quello che riguarda l'erogazione dei finanziamenti e quindi anche alcuni interventi sono un po' in ritardo. In che modo il Ministero affronta la tematica terremoto nelle nostre aree a rischio sismico e quali controlli vengono fatti? Allora il Ministero ha chiesto alle province di effettuare dei controlli sulla staticità degli edifici e questa scuola è stata l'unica scuola per quello che mi risulta della provincia di Terni che ha avuto appunto una rilevazione puntuale della staticità e quindi è stata anche classificata secondo gli standard previsti per la sicurezza sismica. Questo, il fatto di avere una certificazione della staticità dell'edificio, renderà possibile degli interventi specifici che sono stati programmati dopo il sisma, non perché siano stati rilevati dei danni a questa struttura ma perché avendo una certificazione di partenza già realizzata in passato è possibile stabilire adesso quali interventi migliorativi è necessario realizzare. Il MIUR quindi chiede di fare delle verifiche, naturalmente questo si scontra un po' poi con le risorse effettivamente a disposizione delle province e il fatto che in questa fase storica in Italia ci sia una riorganizzazione delle province o perlomeno ci sia stato un tentativo di riorganizzazione poi interrotto con il referendum costituzionale che non è stato approvato è chiaro che ha creato una situazione di difficoltà proprio anche da un punto di vista organizzativo perché le province sono state in parte riorganizzate e poi questa riorganizzazione in questo momento è in una fase un po' di stallo. Come vengono informati i docenti e gli studenti relativamente alle misure di sicurezza? Allora noi abbiamo un piano di sicurezza che vuol dire un piano per la gestione delle emergenze che viene annualmente rivisitato dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione che è una figura che esiste in tutte le strutture e esiste quindi anche all'interno della scuola. Questo piano viene presentato normalmente all'inizio dell'anno ai docenti all'interno del primo collegio dei docenti e anche poi comunicato agli studenti e pubblicato sul sito della scuola. I docenti fanno una formazione sulla sicurezza che è obbligatoria in quanto lavoratori dipendenti. Questa formazione prevede 12 ore di formazione che deve essere fatta con un aggiornamento poi ogni 5 anni. Noi l'abbiamo fatta in questa scuola nel 2013 e la rifaremo quindi l'aggiornamento nel 2018. I docenti assunti temporaneamente o assunti successivamente al 2013 sono tenuti a frequentare dei corsi di formazione sulla sicurezza che vengono periodicamente organizzati. Il prossimo partirà il mese di febbraio. Esiste poi tutto un servizio di prevenzione e protezione che consta di vari addetti con varie funzioni per cui ci sono delle persone incaricate per la gestione del primo soccorso, per la gestione della normativa antincendio e quest'anno abbiamo anche organizzato un corso per i preposti che sono quelli che hanno la responsabilità di gestire le attività di laboratorio perché per quello che ci riguarda l'attività più rilevante ai fini della sicurezza è proprio l'attività di laboratorio ed è per questo che quest'anno stiamo facendo una formazione per gli assistenti tecnici e per gli insegnanti tecnico-pratici che sono le due figure che ci sono quando gli studenti vanno in laboratorio. Gli studenti fanno un corso di formazione sulla sicurezza in quanto equiparati ai lavoratori dipendenti per le attività di laboratorio e per le attività di stage e questa formazione la fanno di 12 ore i ragazzi nella classe terza. Per quello che riguarda il piano dell'evacuazione e quindi la gestione delle eventuali emergenze all'interno della scuola all'inizio dell'anno, nei primi giorni di scuola, viene presentato il piano dell'evacuazione e quindi gli studenti vengono informati. Naturalmente quest'anno è stata fatta un'azione ulteriore anche a seguito degli eventi sismici ed è stato fatto un adeguamento anche del piano di emergenza che è stato comunicato agli studenti ed è stato pubblicato in una sezione del sito della scuola dedicato proprio alla sicurezza. Quali sono le strutture dedicate alle attività fisiche? Allora, in questa scuola abbiamo un cosiddetto palazzetto dello sport, cioè una struttura abbastanza grande con la possibilità di svolgere alcune attività sportive, in particolare la pallavolo, la pallacanestro e l'attività di atletica. È una struttura che noi non gestiamo direttamente perché è gestita dalla provincia ed è una struttura che viene utilizzata quindi fuori dall'orario scolastico anche da altri soggetti. All'interno della scuola abbiamo altre due strutture, due palestrine, una attrezzata con degli attrezzi per fare la ginnastica con gli attrezzi e un'altra invece una struttura più piccola. C'era un tempo anche la possibilità di fare attività fisica nello spazio, nel cortile, ancora in parte viene svolta, però diciamo che questo è un settore che avrebbe bisogno di essere risistemato. Abbiamo presentato un progetto al ministero per realizzare un campo di calcetto nel cortile, però non sappiamo ancora l'esito di questa selezione, di questa partecipazione al bando. In che modo questa scuola si differenzia dalle altre relativamente alle strutture? Allora, la caratteristica principale di questa scuola è sicuramente la vastità, cioè nessun'altra scuola della provincia di Terni è così grande. È anche una scuola un po' adatata perché è stata fatta all'inizio degli anni Sessanta, quindi è una scuola che gode di grandi spazi proprio perché in quel momento le strutture scolastiche venivano realizzate in quel modo. Ed è una scuola che non è un prefabbricato, è una struttura in muratura e questo è un altro vantaggio anche da un punto di vista termico perché garantisce un isolamento maggiore. Naturalmente, essendo una scuola che è stata realizzata tanti anni fa ed essendo anche così grande, è chiaro che gli interventi diventano difficili e complicati perché naturalmente sostituire ad esempio gli infissi di tutta questa scuola richiede un investimento notevolissimo proprio per la vastità. La zona delle officine che è stata realizzata appunto pensando con una struttura simile a quella che c'era nelle aziende negli anni Sessanta è chiaro che presenta ambienti molto grandi con soffitti molto alti che hanno un loro fascino ma che naturalmente pongono dei problemi da un punto di vista di isolamento termico e di consumo energetico. Quindi è un po' una nostra ricchezza ma è anche un po' un nostro limite il fatto che la scuola abbia una storia importante e significativa. Ecco, anche interventi di abbellimento, è chiaro che rifare l'intonaco esterno di tutta la scuola richiede un esborso particolarmente rilevante. Anche qui la gestione all'interno invece della sistemazione degli spazi all'interno della scuola grazie a un lavoro in parte autogestito siamo riusciti a migliorare anche da un punto di vista estetico proprio perché anche da questo punto di vista le risorse a disposizione della provincia non sono quelle che c'erano un tempo e quindi naturalmente gli interventi non sono quelli che sarebbero necessari. È molto importante, credo, da questo punto di vista sensibilizzare gli studenti sia per quello che riguarda il risparmio energetico e quindi un uso corretto sia del riscaldamento che dell'energia elettrica e anche una tutela e una cura degli spazi comuni. Grazie.